Le mie bolpette sono buonissime, vi spiego come farle. Cipolla soffritta, sugo di pomodoro e poi unisco patate e carote. Uova, basilico, aglio e sale, pane grattugiato, formaggio e tritato. Con questi ingredienti li andremo a unire. Ho preferito frullare uova e aromi per ottenere un composto omogeneo. Possiamo amalgamare e formare le bolpette. A questo punto passiamo alla frittura. Un poco olio, padella antiaderente. Soffreggiamo bene le polpette e le uniamo al sugo preparato in precedenza. Ciao!